Anche a Modica un ulteriore taglio alle indennità si è reso necessario, non tanto come scelta voluta, ma più che altro come mosso obbligata per poter rientrare nei limiti e negli obiettivi imposti dal piano di riequilibrio finanziario. Decurtazioni sì, ma solo del 5%. Un taglietto ben lontano dalla totale rinuncia alle indennità applicata dalla precedente amministrazione Buscema, che tanto ha fatto per cercare di risanare i conti di Modica, ereditata con un buco finanziario enorme. Un punto sottolineato proprio dal PD cittadino, che ricorda come il provvedimento sia stato sospeso proprio all'arrivo dell'aggiunta Abate, che ha ripristinato le indennità, seppur decurtate, secondo quanto imposto dalla rigida austerity regionale. Nella delibera presentata si parla di un'ulteriore riduzione del 5%, rispetto ai tagli già stabiliti, partendo dall'importo di base lordo di 4.131 euro per il sindaco, che si riduce del 25% per il vice sindaco, del 35% per il presidente del Consiglio Comunale e gli assessori, già comunque ridotti del 20% nel 2015, secondo quanto prescriveva la normativa nazionale in materia di indennità di funzione degli amministratori locali, dove era stato anche previsto che i consiglieri percepissero un solo gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni, anche a fronte della presenza in più commissioni. Ora un ulteriore, seppur piccolo passo, viene fatto in favore dell'austerity, quando la cinghia la devono stringere un po' tutti, soprattutto gli amministratori, anche se solo di un bottone.